E bella raga e benvenuti in questo nuovissimo video di The Legend of Zelda Ocarina of Time Siamo qui nel punto di prima e in questo episodio, questo episodio non sarà, cioè sarà diverso dagli altri che ho fatto Perché in questo episodio vorrei prendere, come vi ho detto, 20-30 arachnule dorate E niente, quindi iniziamo alla ricerca La prima arachnula dorata si troverà nel castello di Hyrule, in questo posto E dovremmo rosolare e colpire questo albero E così facendo cadrà un arachnula dorata Eccola lì Uccidiamola e prendiamo la sua anima Ecco fatto La seconda arachnula che prenderemo Si troverà dentro questa casa E dove ci saranno un casino di vasi con dentro delle rizie La arachnula si troverà dentro questa cassa Dobbiamo rotolare e distruggerla Togliati cane, dai La cassa sarà questa arachnula Eccola lì Uccidiamola e prendiamo la sua anima Ecco fatto La terza arachnula che prenderemo Si potrà prendere solo con il boomerang E si troverà nell'allon ranch E si troverà nell'allon ranch In questa finestra E questa arachnula si può trovare solo di notte Eccola qui La quarta arachnula invece si troverà qui a sinistra E dovremmo rotolare e colpire questo albero E così facendo cadrà una arachnula dorata Uccidiamola e prendiamo la sua anima La quinta arachnula invece si troverà sempre nell'allon ranch E si troverà in questo punto Lì è dove abbiamo trovato la quarta arachnula E qui si trova la quinta arachnula Eccola qui E prendiamo la sua anima Ecco fatto La sesta arachnula Che prenderemo in questo video Si troverà qui Come vedete Sempre nell'allon ranch E si può trovare solo di notte Anche quella là si può trovare solo di notte Ma vabbè E lì c'è la cadera dove abbiamo preso la quarta arachnula E questa è la nostra sesta arachnula di questo video E si può prendere sempre e solo se avete il boomerang E' fatto La settima arachnula di questo video Si troverà in questa casa Ovvero dietro a questa casa Guardate anche dalla minimappa Siamo qui E qui c'è la nostra settima arachnula dorata Che non so se si può prendere solo con il boomerang Si si può prendere solo con il boomerang E si può trovare solo di notte La nostra ottava arachnula La troveremo in un pezzo di terreno fertile Dovremmo prendere una bottiglia E guardate dalla minimappa E guardate dalla minimappa dove sono Prendere questo sasso E prendere questi insetti Se possiamo Anche due bottiglie Perché questi insetti ci serviranno moltissimo Alla caccia delle arachnule Perché la nostra ottava arachnula La troveremo appunto La troveremo appunto in questo pezzo di terreno fertile E dovremmo piantare Cioè non piantare Mettere In questo pezzo di terreno fertile Questi insetti E dopo un pochino Esatto Eccola qui Apparirà la nostra ottava arachnula E potremo prendere la sua anima E si può trovare anche di giorno La nostra nona arachnula dorata La troveremo sopra questa colonna E si troverà nel villaggio Kakariko E questa arachnula apparirà solo di notte Uccidiamola E con il boomerang Prendiamo la sua anima Ok? Devo andare più vicino Magari potete semplicemente Scalare la colonna Attraverso queste scale In questo modo Eccolo fatto E ci troviamo in questo punto Come vedete La nostra decima arachnula dorata La troveremo Sempre in un pezzo di terreno fertile E dobbiamo mettere insetti Nel coso Nel pezzo di terreno fertile E adesso sto approfittando Per prendere più insetti E questo è una specie di bug Per ottenere Questi insetti E niente Mettiamo gli insetti In questo modo E apparirà la nostra decima arachnula dorata Prendiamo la sua anima E ci troviamo Nel cammino per andare Nella montagna Nella città dei Goro Volevo dire La nostra undicesima arachnula dorata Si troverà nella caverna Do dongo Guardate dove sono Ok E si troverà In questa stanza E in questa stanza Ci possiamo accedere Solo quando abbiamo le bombe Mettiamo la bomba In questo punto Ed entriamo Nella stanza E qui ci saranno Dei pipistrelli Dove se volete Io vi consiglio Di ucciderle Come ho fatto io adesso Con una bomba E niente Con il boomerang Prendiamo La anima Di questa undicesima Arachnula dorata La nostra Dordicesima Arachnula Si troverà sempre Agli adannati Pugistrelli Sempre Nella caverna Do dongo E si troverà Nella stanza Dove Dobbiamo muovere Questi blocchi E qui dietro Ci sarà Una parte Dove dobbiamo Muovere un blocco E vabbè Siamo qui Mettiamo Una bomba Aia Dicevo Mettiamo una bomba E proteggiamoci Con lo scudo Ilia E andiamo In questa stanza Poi ci sarà Una statua Dove noi Dobbiamo farla esplodere Con una bomba Se volete Potete anche Ignorarla Ma io vi consiglio Di farla esplodere Con una bomba Ma se volete Potete anche Fare così La nostra Tredicesima Arachnula dorata Si troverà In questa stanza Della città Dei Goron Guardate la minimappa E dovremmo Distruggere Queste rocce Nel modo Che Vi farò vedere Quindi Questa O magari no No Questa Questa Ok Mi sono sbagliato Ok Mettiamo la bomba Così Poi Questa Se non mi sbaglio Era questa Si Dovrebbe essere quella Poi Questa Nel caso Opposto Mi sbaglio Anche quella No è questo Ok E qui Niente Ci saranno Due scrigni Ma Li ignoriamo E dobbiamo Distruggere Questa cassa E conterrà La nostra Tredicesima Arachnula Dorata Ecco Prendiamo La sua anima La nostra Quattordicesima Arachnula Dorata Si troverà In questo Posto E si troverà Nel cratere Della montagna Della morte E si dovrebbe Trovare In questa Cassa Eccola qui Uccidiamola E prendiamo La sua Anima La nostra Quindicesima Arachnula Dorata Si troverà In questo Posto Nel Percorso Per andare Al dominio Zora E dovremmo Rotolare Contro Quest'albero E Coltilo Così facendo Apparirà Una Arachnula Dorata Uccidiamola E Prendiamo L'anima Ecco Fatto Per la Nostra Sedicesima Arachnula Dorata Dovremmo Dovremmo Recarci Nel Lago Ilia E andare In questa Piattaforma Dove abbiamo Preso Le frecce Di fuoco Nell'episodio 15 E poi Qui In una Colonna Ci sarà La nostra Arachnula Dorata Ecco Fatto Per la Nostra Diciassettesima Arachnula Dorata Si troverà Appesa Dovremmo Trovare Solo Di notte Ecco Fatto Prendiamo La sua Arachnula E Perfetto Per la Nostra Diciottesima Arachnula Dorata Si troverà Sempre Vicino Al laboratorio E Dovremmo Mettere Dei Insetti Qua Dentro In questo Pezzo Di terreno Fertile Così Facendo Dovremmo Apparire Esatto Eccola Qui La nostra Diciottesima Arachnula Dorata Che Uccidiamo E Prendiamo La sua Anima Per la Nostra Diciannovesima Arachnula Dorata Dovremmo Recarci Dove c'è Jabu Jabu Nella fontana Del dominio Zora E Dovremmo Rotolare E colpire Questo Albero Quindi Facendo Apparirà Una Arachnula Dorata La nostra Diciannovesima Ed ecco la sua Anima Per la nostra Ventesima Arachnula Dorata Si troverà Sempre Insomma Dove c'è Jabu Jabu Nella fontana Nel dominio Zora E si troverà Solo di notte Quello che dobbiamo fare E salire sopra Questo Tronco E Lì A presa il muro Ci sarà La nostra Ventesima Arachnula Dorata Quindi Uccidiamola E prendiamo La sua Anima Eccola qui Per la nostra Ventunesima Arachnula Dovremmo recarci Vicino al Castello di Hyrule In questo Punto E dovremmo Mettere una Bomba Vicino a Questo Albero E qui Ci sarà Quando metteremo La bomba Si creerà Un buco Quindi Entriamoci E uccidiamo Questa Arachnula Gigante Girati Dai girati Muori Ah No cavoli Ok Uccidiamola Con una bomba Facciamo prima E qui a destra Ci sarà La nostra Ventunesima Arachnula Dorata Uccidiamola E prendiamo L'anima Ecco Fatto Per la nostra Ventunesima Arachnula Dorata Dovremmo Nel frattempo Vabbè Uccidiamo Questi Cosi Dovremmo Incendiare Cioè Dare fuoco A un Bastone Questi D'acoustic E poi Qui ci sarà Un'aragnatela E dovremmo Brucarla Io l'ho già Brucita nel passato Vi ricordate Nel secondo episodio Vabbè Poi dovremmo Mettere una bomba A questa parete E dietro ci sarà Una porta Ci sarà Questa stanza Dove c'è Un'aragnatela Gigante E ci sarà Anche la nostra Bellissima Ventiduesima Arachnula Dorata Uccidiamola E prendiamo La sua Anima Perfetto La nostra Ventitresima Arachnula Dorata Si troverà Sempre Cioè Nella foresta E si troverà Accanto Al negozio Dove abbiamo Concurato Lo scudo Deku Accanto Ci sarà Un pezzo Di terreno Fertile E noi Ci dovremmo Mettere Questi Insetti In questo Modo E così Facendo Apparirà La nostra Ventitresima Arachnula Dorata Ecco Fatto Per la nostra Ventitresima Se non mi sbaglio Dovremmo Andare Qui E andare Prima A destra Cioè Volevo dire Prima a sinistra E poi Ancora a sinistra In qua Poi Troveremo Un pezzo Di terreno Fertile E noi Dovremmo Metterci Come al solito Gli insetti In questo Modo Aspettiamo Che anche Questo Vada Lì Ed è La nostra Ventitresima Arachnula Dorata Ed è Con la sua Anima Per la nostra Ventitresima Arachnula Dorata Dovremmo andare Sempre In questo Posto E andare Prima a destra Poi a sinistra Poi Se non mi sbaglio A destra Sì Poi a sinistra E poi Di nuovo A sinistra E ci Troveremo In questo Posto Decideranno Questi Depo Che Li vorrei Uccidere Però Non posso E Troveremo Un pezzo Di terreno Fertile E come Al solito Dovremmo Metterci Dei insetti E dopo Un po' Dovrebbe Apparire La nostra Venticinquesima Arachnula Dorata Ecco L'altra Pocamica Ma vabbè Ed ecco La sua Anima E iniziano Le arachnule Da adulti Infatti Per questa Arachnula Dorata Dovremmo Essere Adulti Perché Dovremmo Avere Il lock Shot O Il long Shot E dovremmo Agganciarci A questa Casa Ovvero A questo Tetto E poi A quest'altro Tetto E qua Dietro Ci sarà Una Arachnula Dorata Quindi Andiamola Subito Ecco Fatto Per la nostra 27esima Arachnula Dorata Dovremmo Essere Nella Foresta Kokiri E dovremmo Dirigerci In questa Casa Guardate Guardate la Minimappa E con Longshot O con Il longshot Colpire L'arachnula Che Sta Lassopra In questo In questo Modo Ed ecco La sua Anima Per la Nostra 28esima Arachnula Dorata Dovremmo Recarci Nella Città De Goron E In questo Cosa In questa Piattaforma Qui Al centro Ci sarà Un'arachnula Dorata E per Quest'arachnula Dovremmo Per forza Avere Il longshot Se non Mi sbaglio Ed eccola Qui Per la Nostra 29esima Arachnula Dorata Dovremmo Recarci Nel tempio Di fuoco E A quanto pare C'era Un motivo Perché Navi Era andata Lassopra Perché Da questo Punto Bisogna Suonare La canzone Dello Spaventapasseri E così Facendo Apparirà Lui Apparirà Lo spaventapasseri E noi Dovremmo Agganciarci A lui E poi Da qui Dobbiamo Agganciarci A quella Piattaforma Lassopra E questa Piattaforma Si Solleverà E così Noi potremo Andare In questa Porta Dove C'è Un'arachnula Dorata Una stanza Con Un'arachnula Dorata Cui Quindi Prendiamola Ed ecco la sua Anima La nostra Trentesima E ultima Arachnula Dorata Dovremmo Da dove abbiamo preso La ventinovesima Salire Salire Come al solito Come al solito Vi invito A lasciare un like Iscrivervi al canale Condividere il video Lasciare un commento E attivare la campanellina Io credo di fare un altro video Di questi In un prossimo episodio Che farò più avanti Tipo Che ne so Tra Cinque episodi Quindi Circa Tra cinque episodi Farò un altro video Del genere E Niente Al prossimo video Ciao